Tutta la città in un click, è questo l'obiettivo che si propone il percorso avviato tre anni fa di Cremona Smart City. E' quanto ha ricordato l'assessore alla digitalizzazione Maurizio Manzi nel corso della conferenza stampa svoltasi questa mattina presso Spazio Comune a Cremona, alla presenza del sindaco Gianluca Gallimberti, del presidente di LGH Antonio Vivenzi, di AM Massimo Sivoni, dei vertici di Linea Comelle di Reti e Padania Acque. Tutto questo è già oggi possibile grazie a un'infrastruttura tecnologica costituita da 58 gateway che raccolgono i dadi di tutti gli yacht o sensori posizionati in città. Si va dai 36.000 nuovi contattori del gas a ciascun lampione dell'illuminazione pubblica, dagli edifici alla sperimentazione sui contattori dell'acqua. Ciascuno di questi strumenti diventa una sorta di spia che informa sui consumi effettivi in tempo reale, su eventuali dispersioni, sulle condizioni atmosferiche, sull'inquinamento dell'aria, sull'efficienza energetica, ma anche su parcheggi, mobilità e piste ciclabili, irrigazioni, raccolta di rifiuti intelligente, videosorveglianza, programmazione culturale e turistica, persino il monitoraggio delle persone appartenenti alle fasce cosiddette fragili. Grazie alla rete di fibre ottiche, wifi e alla rete di connessione e trasporto dati, Cremona si può dire ormai connessa e in grado di progettare e sviluppare nuovi servizi o di riconsiderare quelli vecchi. Gli esperti ci dicono che questa è ormai scienza, non fantascienza, ma la riprova verrà dai fatti.